Mario Menicagli, direttore del Teatro Goldoni di Livorno, ci parla dell'amico Fritz, l'opera di Mascagni che andrà in scena all'Agua Alberto di Guasticce. Un grande onore e una grande soddisfazione approdare con la Fondazione Goldoni, con i Mascagni Festival, in quello splendida oasi che è la tenuta per la vista in Suez, che già ha ospitato, come tutti sapete, spettacoli lirici negli anni. È un'occasione d'oro per tutti per allargare la generazione anche della Fondazione Goldoni e ringrazio ovviamente il Comune di Cuali Salvetti, la proprietà della tenuta per la vista in Suez e per l'ospitalità. Tra l'altro quest'opera sarà realizzata con un cast che è il frutto di un'operazione didattica, quella della Mascagni Academy, che si è svolta proprio all'interno della stessa tenuta. Quindi una collaborazione a tutti gli effetti per due spettacoli che speriamo siano di gradimento da parte del pubblico e che il pubblico accorre a numeroso, il 31 luglio e il 1 agosto, con l'amico Fritz e Pietro Mascagni. Un modo per fondere insieme natura e musica nell'opera che va in scena in uno scenario come quello della tenuta bella vista in Suez e che dal punto di vista paesaggistico è straordinaria. Quindi musica e natura che si fondono? Assolutamente sì. L'intento della proprietà e l'intento anche della Clara Schumann negli anni scorsi, quello di organizzare qualcosa nella tenuta era proprio quello, la fusione tra la bellezza e la musica e la bellezza e l'ambiente. Questo messaggio è stato recepito e approfondito dalla Fondazione Goldoni perché credo che sia un elemento fondamentale anche per far avvicinare chi magari spesso rimane un po' distaccato dall'opera lirica e dalla musica in generale. Quindi è un'occasione da non perdere e che speriamo abbia un seguito anche nei prossimi anni. Grazie. A te, grazie. 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 Grazie.